Roberto Casaleggio. In Roberto Casaleggio c'erano tre anime. C'era l'anima del sognatore, dello scrittore, se volete di fantascienza, che credeva nelle sue visioni e che per esempio fece il famoso criticatissimo filmetto su YouTube, su Gaia. C'era la vocazione dell'imprenditore innovatore e c'era la vocazione dell'innovatore politico. Cosa sta succedendo? Che le tre anime di Casaleggio si stanno decantando. Grillo sta facendo, è l'erede, se volete, dell'anima sognatrice, letteraria, culturale. Davide, che io conosco bene, che è un ragazzo molto intelligente, molto concreto, è un ottimo imprenditore, è l'anima imprenditoriale e infatti sta separando la sua impresa anche dal Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle sta diventando una cosa diversa, direi, anche dall'intuizione che aveva avuto Roberto, è un'idea, c'è una mutazione, non nascondiamoci, il Movimento 5 Stelle di oggi non è il Movimento 5 Stelle delle origini, che pure di pecche ne aveva, ma era una cosa diversa. Cioè il Movimento 5 Stelle dei tempi di Roberto, che si dà un capo politico, che si dà uno statuto non votato da nessuno, che è una Costituzione ottriata, che fa quel tipo di selezione delle parlamentarie non trasparentissimo, diciamo così, è una cosa per cui io credo che Roberto Casareggio gli sarebbero caduti tutti i capelli per una cosa del genere. Allora, per darvi un ulteriore aiutino stamattina a me e a voi, perché siamo su un livello molto colto, la Costituzione ottriata è una Costituzione data dal soprano, non data dal popolo, diciamo, conquistata dal popolo. Ecco, va bene. E' stato certo. E' lo statuto albertino. Esatto. E' lo statuto albertino del Movimento 5 Stelle. Per gentile concessione, bisognerebbe dire, per gentile concessione, oppure già nulli per opportunistica concessione, viste le situazioni che si stavano determinando. Ma detto questo, io... Non usciamo, ma lo statuto albertino è il paragone giusto, perché in 5 Stelle c'è una vena monarchica, è passato dal padre Vabbè, adesso... Il figlio è... No, questo è il meno vero di quello. E' lo scritto santo. No, manca... Io vorrei semplicemente... Io vorrei semplicemente... Si ha un'idea sbagliata di un Davide Casareggio che è spuntato fuori dal nulla. Davide gestiva il... Ah, scusate però, devo sentire un attimo, esposito e... Ho capito, anche il figlio, dai. E...